buongiorno amici di motore online in questo momento ci troviamo al palazzo donizetti di milano dove abbiamo visto per la prima volta una nuova lancia y si tratta di un'edizione speciale la 36esima lancia y della sua storia ma questa per cura per dettagli per diverse caratteristiche sembra davvero un po più speciale delle altre si tratta della nuova lancia y alberta ferretti e per parlare di questa edizione speciale abbiamo con noi luca napolitano CEO del brand lancia quindi luca cosa possiamo dire di quest'auto soprattutto ci interessa sapere come è nata questa edizione speciale alberta ferretti ma y è un grande successo da tanti anni sono state vendute più di 3 milioni di auto sul mercato quasi 2 milioni a un cliente femminile il 65 per cento del nostro cliente femminile io credo che la chiave del successo sia stata proprio quella di sapersi reinventare continuamente di saper continuamente seguire i nuovi bisogni e le nuove necessità dei suoi clienti tante serie speciali però ha ragione perché questa davvero un sapore particolare la comunanza di valori tra lancia alberta ferretti è molto forte sicuramente italianità eleganza ricerca sostenibilità quando si parla di eleganza italiana credo che si guardi lancia nel mondo dell'auto e si guarda alberta ferretti nel mondo della moda quindi lavorare insieme è iniziato come un po un progetto di lavoro ed è definito come una bella amicizia e quali sono le caratteristiche fondamentali di questa alberta ferretti cosa ha di diverso rispetto a una lancia y diciamo normale ma innanzitutto lavorare con alberta è stato molto interessante noi normalmente quando abbiamo ospite al centro stile siamo noi a presentare invece quando è venuta alberta ha cominciato lei a spostare tutto e veramente è stata determinante nella creazione la definizione di alcuni degli elementi di stile di questa vettura il colore esterno tra tutti a cui che si chiama grigio alberta ferretti ovviamente gliel'abbiamo voluto dedicare è un po' è un po' come l'abito delle grandi occasioni no è l'abito che si tira fuori dall'armadio per l'occasione importante è già in concessionario davvero invito tutti andarla a vedere e andarla a provare benissimo e quindi quando arriva e soprattutto quanto costerà la vettura è già in concessionaria costa 13.900 euro andate a provarla andate a vederla saliteci su e sono certo ve ne innamorerete benissimo e noi sicuramente aspetteremo di provarla per vedere esattamente cosa di speciale già si vede all'esterno ma noi siamo curiosi grazie mille a luca napolitano e voi rimanete con noi sulle pagine notori online su tutti i nostri canali social network alla prossima intervista